cari amici dell'hotel tre torri buongiorno dopo una dura giornata lavorativa in albergo è molto bello venire in spiaggia a rilassarsi a guardare il sole che tramonta a sentire il rumore delle onde del mare è meraviglioso questa spiaggia si trova a soli tre chilometri dall'hotel tre torri è il uno dei periodi più belli per venire a visitare agrigento ad agrigento tante cose da poter fare da poter vedere oltre le spiagge scala dei turchi la valle dei templi farm cultural parte il centro di agrigento il museo diocesano museo archeologico la cattedrale tantissime cose da vedere anche il teatro andromeda facendo qualche chilometro in più per la vostra vacanza ad agrigento in sicilia abbiamo deciso di agevolarvi accettando il bonus vacanze ma solo per un numero limitato di richieste quindi affrettatevi a prenotare perché è un'opportunità limitata vi meritate una vacanza ad agrigento vi aspettiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti